Enzo Amantini, direttore di corsa di questo secondo trofeo Sogeppu Memorial, Antonio Bellanti e Renato Amantini. Si ritorna a pedalare Enzo, una bella gara durissima, un gran premio della montagna molto impegnativo. Bello perché veramente oggi i ragazzi, le squadre si sono compattate benissimo, un tracciato bellissimo secondo me, con il finale la salita di Montioni e la ciliegina sulla torta. Bravi a tutti, non è successo niente, è andato tutto bene, ha vinto un grande corridore, il canadese del team Franco Ballerini, complimenti a tutti. Enzo, fino a pochi chilometri dall'arrivo la direzione di gara dava in testa due atleti della Forte Braccio. Si, dava Romolini della Forte Braccio, si sono comportati bene ma questa è una categoria internazionale, non è uno scherzo, noi abbiamo tanti giovani però va bene così, dai. E della Franco Ballerini, Leonard Michael, di origini canadesi. Sì, è stata una molto dura guerra, le mie campagne di squadra sono state molto molto forti, ho pensato che questa guerra sarebbe molto difficile di vincere ma loro mi hanno aiutato molto bene. E' stato determinante la salita? Ho aspettato per la salita, poi attaccato e gli ultimi due giri a full gas. Complimenti. Grazie.